buongiorno ragazzi moviemiker per voi oggi breve video per annunciarvi che presto ci sarà la shark movie week in cui farò un unboxing di una cosa che mi deve arrivare e non vi sveglia ancora e guarderò cinque film di diverso genere tutti con lo squalo come protagonista i film li sveglia uno al giorno pian piano sono di completamente genere diverso dal genere assurdo dal genere più realistico da capolavori magari di film d'autore tutti comunque con le squadre protagonisti ne guarderò cinque più un unboxing e tutto questo farà parte di questa di questa diciamo mia shark movie week che ho voglia di fare questo qui che adesso arriverà è il logo della shark week spero che vi piaccia intanto mentre faccio la shark week recensisco comunque cinque film che alcuni ho anche già visto e rivedremo non vi resta che salutarvi e guardate la shark week tra poco inizierà da qualche giorno ciao ragazzi alla prossima